Noi di Curioso, esperti nel fornire informazioni dettagliate e precise, esploreremo il fenomeno intrigante che causa fastidio quando l'acqua dolce entra nel naso, a differenza della sua controparte salata marina. In questo articolo, scopriremo le ragioni fisiologiche di questa sensazione e perché il nostro organismo reagisce in modo diverso alle due tipologie d'acqua. Composizione dell'acqua dolce e del mare. L'acqua dolce, proveniente da fiumi, laghi o fonti sotterranee, presenta una composizione chimica distintiva rispetto a quella marina. La presenza di minerali, la salinità e la temperatura dell'acqua contribuiscono alle differenti sensazioni quando entrano in contatto con il nostro organismo. Salinità, il fattore chiave. La salinità dell'acqua marina è notoriamente più alta rispetto a quella dolce. Questa differenza gioca un ruolo fondamentale nella nostra reazione quando queste acque entrano nel nostro naso. La salinità più elevata dell'acqua di mare agisce come un agente protettivo, mantenendo un equilibrio nelle nostre membrane nasali. Reazioni fisiologiche. Irritazione nelle membrane nasali. Quando l'acqua dolce entra nel nostro naso, le sue caratteristiche meno saline possono causare irritazioni nelle delicate membrane. Questa irritazione può generare una sensazione di fastidio e, in alcuni casi, può portare a un temporaneo blocco delle vie respiratorie. Adattamento alle condizioni marine. Le nostre narici, nel corso dell'evoluzione, si sono adattate alle condizioni marine. La presenza di sali marini ha plasmato la nostra fisiologia per tollerare meglio l'ingresso di acqua salata nel nostro sistema respiratorio, riducendo la probabilità di irritazioni o fastidi. Conclusioni. In questo articolo, abbiamo esaminato le ragioni scientifiche alla base della sensazione di fastidio quando l'acqua dolce entra nel nostro naso, a differenza di quella del mare. La salinità emerge come il principale determinante di questa reazione fisiologica. Per ulteriori informazioni dettagliate su questo argomento, visitate il nostro sito e scoprite come la nostra competenza può arricchire la vostra comprensione di temi affascinanti come questo. Il nostro obiettivo è fornire contenuti informativi di alta qualità, superando le aspettative degli utenti alla ricerca di dettagli approfonditi. Grazie a tutti! Grazie a tutti!